La donna santissima! La donna santissima! Correte! Correte! Madonna santissima! Guarda come si muove! Ma è rimasto qualcuno dentro? Fuori! Via! Via! Fuori di qui! Ma siete dei pazzi ancora a rimanere? Fuori! 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 La donna santissima! La donna santissima! Sta cadendo tutto il cavolo! Fuori! Via! 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 Ma donna che sta venendo adesso ragazzi! Vabbè! Vabbè di semplice! Vieni qua! 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 Fuori! Fuori! Andiamo via! Dobbiamo domandare l'esercito! Mi ha sciuto la banca! Mi ha sciuto la banca! Si si! Mi sto fatto sbonderare il sbonderato della zona della banca! Ragazzi! Sbonderato dalla zona della banca! Sbonderato dalla zona della banca!